Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha ricevuto a Palazzo d'Orleano una delegazione della Federazione Identità Storica Siciliana guidata dal presidente Giovanni Lagrua. Nata per diffondere la conoscenza, l'identità e la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Sicilia, la federazione raggruppa le associazioni di 25 comuni dell'isola. Il presidente Musumeci ha affermato sapere che nella nostra regione sia stato compiuto un tentativo concreto di associazionismo è sicuramente un fatto positivo, poiché questa rete mette insieme enti che puntano a tramandare le tradizioni del popolo siciliano è ancora più significativo. La Sicilia potrà diventare sempre di più attrattiva se riusciremo a valorizzare ciò che siamo stati e che siamo. Il presidente Lagrua, nel suo intervento, oltre a sottolineare l'obiettivo comune delle associazioni di promuovere le tradizioni, gli usi e i costumi dell'isola, ha manifestato al governatore l'intenzione di nominarlo presidente onorario della federazione. Grazie. Grazie.